Posizione di lavoro Ho aperto questo negozio vent'anni fa Non c'era proprio niente, non era turistica Ho aperto proprio questo laboratorio per il mio piacere In questo momento non mi interessa nemmeno più la vendita È proprio il momento che si passa con la gente Che mi fa delle domande su quello che faccio E poi io faccio delle domande su quello che fanno Ed è un bellissimo momento Faccio un po' di ufficio turista Come hai fatto con me Come ho fatto con te e loro sono contentissimi Mi mandano messaggi Ah siamo andati là, siamo bellissimi Dunque è molto di più che un posto di vendita Io prendo una seta bianca Questo è il colore della seta Tendo la seta sul telaio Prendo una resina che si chiama la cuta perga E che si spalma Faccio il decoro così È tipo una matita che consente di bloccare il colore Il colore non va oltre Così io posso fare un decoro preciso Ma posso anche fare un decoro astratto Questi dipinti diventano dei foulard Ma diventano anche dei quadri da realizzare Si può realizzare veramente tutto Abbiamo i fichi d'India Abbiamo i gechi Abbiamo la piazza del Duomo di Siracusa Bellissima È andata come un occhio Come una isola Diventa proprio E che bello Che bello E non passa mai col telo Questa meraviglia Anche quando passo davanti al mio negozio la notte Che tutto è illuminato Dico Che bel negozio Guarda E vedi cosa succede qua Così puoi sentarci Ah sì 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 Sembrano tipo stelle Tu hai una vita bella Sì 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 Molto soddisfacente Pensa un po' Vivere in Sicilia Hai un bel lavoro La gente ti dice sempre Che brava che è Che bello Che brava Cosa puoi aspettare di più È tutto bello Tutto bello Ciao